Andavo nelle botteghe e chiedevo se serviva qualcuno per lavorare, se potevano assumere e naturalmente tutti dicevano no. Io tecnicamente non cercavo lavoro, cercavo solo uno che mi insegnasse. Infatti poi a Roma ho trovato questo signore e gli ho detto guarda io non voglio che essere assunto, anzi guarda se mi insegno a fare scarpe se lavoro gratis, ti aiuto a fare riparazione. E infatti questo rimase un po' tutto, sei sicuro? Sì sì sicuro, va bene, allora ci vediamo domattina. E così è stato per due anni.